Venerdì 22 dicembre, buongiorno e ben ritrovati puntuali come sempre per il nostro appuntamento del mattino, la nostra rassegna stampa, andiamo a fare l'ormai classico giro delle prime pagine per scoprire cosa ci propongono i quotidiani in edicola stamane, andiamo dunque a dare un'occhiata alle varie prime pagine, ai titoli in primo piano per vedere quali sono i temi caldi di oggi. Cominciamo subito il nostro giro, lo facciamo partendo dal quotidiano la Sicilia, tra le altre cose si parla anche di calcio, palla avvelenata, questo il titolo sentenza shock della Corte Europea che dice basta al monopolio dell'UEFA e libera dunque il progetto della Superlega. Si parla invece ancora del MES, la maggioranza si divide, stop all'accordo, la Camera boccia, il testo dell'intesa, spaccate pure le opposizioni. Per quanto riguarda la manovra alla regione siciliana, patto all'Ars si approva l'8 gennaio, fondi alle opposizioni e poi aiuti sul caro mutui per quanto riguarda la prima casa, la regione taglia i tassi del 50%. Guardate un po' quanto è successo, invece in Repubblica Ceca fa strage all'università 15 morti e 24 feriti, il fatto è avvenuto a Praga, un giovane ha cominciato a sparare all'impazzata dopo aver ucciso il padre, odiava il mondo, questo scriveva sui social. Cronaca siciliana denunciò il pizzo, volevano ucciderlo, retata tra Gela e Niscemi, è stato inflitto un duro colpo alla famiglia mafiosa di Niscemi e poi Far West a Palermo, sangue in discoteca e allarme sicurezza, la morte di un giovanissimo ragazzo, un 22enne ucciso a colpi d'arma da fuoco a Palermo, pare dopo una lite. Due ladri nel casolare li uccise a pistolettate, agricoltore di Acireale condannato a 10 anni e poi schianto fra due auto sulla famigerata 284 tra Catania e Paternò, muore una donna due feriti, la strada della morte, così la definisce il quotidiano La Sicilia. Nodo rifiuti, Siculiana non riapre, con la discarica chiusa il prefetto teme adesso un'altra emergenza. In taglio alto, Pennisi, Etna, valore aggiunto ma il turismo dei prossimi 20 anni va pensato ora. E poi giro delle città partendo da Catania, sicurezza carente, fermo per due navi, a Paternò confiscati i beni della patron di Que, Scordia, fiamme in abitazione novantenne tratto in salvo e poi a Taormina, il famoso orologio della torre, avrà la carica elettrica. Lasciamo il quotidiano La Sicilia, andiamo a vedere la prima pagina del giornale di Sicilia. In apertura ovviamente è la cronaca, il grave fatto di Palermo, l'omicidio avvenuto a Palermo, la movida affonda nel sangue, agguato nel retro della discoteca, minore confessa fermato insieme al fratello. Questa vedete l'immagine appunto sul luogo del delitto. La vittima, un ex calciatore con la passione per Scarface, 22 anni, Rosolino Celesia e poi i residenti sono chiaramente allarmati di sera l'inferno tra Via Calvi e il Politeama e allora Palermo corre ai ripari, sorveglianza più intensa, daspo a chi viola le regole, vertice in prefettura per cercare insomma di venire incontro alle esigenze dei residenti, soprattutto in questo periodo di festività dove chiaramente aumenterà il numero di persone nei luoghi della cosiddetta movida palermitana. Cambiamo argomento, finanziaria c'è l'intesa, percorso concordato, voto finale l'8 gennaio e poi Niscemi colpo al clan retata con 29 arresti, evitato un omicidio. Il blitz tra Palermo e New York, annullato ordine di custodia, dunque scagionato, Giovan Battista Badalamenti. Un taglio alto il calcio possibile, adesso la Superlega, la Corte Europea infatti dà torto a FIFA e UEFA. Mess bocciato, il governo dice va modificato, mentre abbiamo visto prima la notizia da Praga, studente uccide il padre e fa una strage all'università, sui social scriveva mi odiano tutti, si parla di almeno 15 morti a Praga. Andiamo avanti con la nostra rassegna, restiamo nell'isola con l'edizione palermitana del quotidiano La Repubblica, chiaramente si parla di movida violenta, le notti di piombo, giovane ucciso, due fermati, titola Repubblica, rissa e colpi di pistola, davanti alla discoteca in via Calvi, il prefetto d'Aspurbani, più telecamere e anche regole per i locali. E poi chi era Celesia, ex promessa di Palermo e Torino, la triste fine del centravanti che sogno di giocare in Serie A, lo vedete in questa foto con la maglietta del Palermo, chiaramente giocava, ha avuto un passato nelle giovanili rosa-nero. Anche Monsignor Lorefici ha partecipato alla fiaccolata a Palermo, chiedo sicurezza, corteo per le vie del centro dopo furti, rapine e davvero tanti, troppi episodi di violenza. L'imprenditore denunciò il pizzo, i boss volevano assassinarlo, il riferimento è alla retata dei carabinieri a Niscemi che ha portato a 29 arresti. Iniziativa invece a Siracusa, i ragazzi a rischio vanno a scuola di Cucito cercando un futuro. E ancora parla Mara Carfagna, intervista su Repubblica Palermo, con Italia al PNRR, dice il governo colpisce il Sud e le donne. E poi la riscoperta, le lettere hard fra De Roberto e la sua amante, ti vedo, ti tocco, questo scriveva appunto De Roberto. Lasciamo Repubblica Palermo, restiamo sulla Repubblica con la prima pagina dell'edizione nazionale. In primissimo piano il MES, Repubblica parla di uno strappo con l'Europa, la Camera boccia la ratifica, maggioranza divisa. Lega e Fratelli d'Italia votano no, Forza Italia si astiene nel centro-sinistra e un caso il voto contrario del Movimento 5 Stelle. L'imbarazzo di Meloni, ma Salvini esulta, riprendiamoci i nostri soldi. Ellie Schlein invece chiede le dimissioni di Giorgetti, il rammarico di Bruxelles e il silenzio del Colle. Intervista a Prodi, scelte folle, scelta folle, che isola il paese e lo rende più debole dentro e fuori, queste le parole di Romano Prodi. E poi il calcio in primissimo piano dopo la storica sentenza della Corte Europea, rivoluzione, vedete nel mondo del calcio, sia la Superlega basta al monopolio della UEFA. Il Corriere della Sera stop al fondo salva stati ed è scontro. Alla Camera, Fratelli d'Italia e Lega votano contro, Forza Italia e noi moderati si astengono, divise anche le opposizioni. Tensioni tra alleati sulla bocciatura del MES, la maggioranza si spacca, Salvini parla di una vittoria. E poi orrore, il 24enne trovato morto, ucciso anche il padre, chiaramente la notizia si riferisce a quanto avvenuto a Praga, la strage all'università, spara gli studenti, 15 vittime, lo vedete in questa immagine, poi scene di assoluto terrore a Praga. La Corte Europea invece apre alla Superlega, il calcio sotto shock, FIFA e UEFA ovviamente contrarie, club in subbuglio e c'è una spaccatura tra i club favorevoli e quelli invece contrari a quanto potrebbe nascere a questa Superlega. Il quotidiano La Stampa, Praga, strage all'università, sparatoria all'Ateneo, 15 morti e 24 feriti, il killer è uno studente, odiava il mondo, voglio lasciare quanto più dolore possibile, questo dichiarava e scriveva anche sui social. Lo stop al MES spacca il governo, Fratelli d'Italia e Lega votano assieme, Forza Italia si astiene, il fastidio di Tagliani e il gelido silenzio del Colle. La delusione di Bruxelles, Giorgetti dovrà dare una spiegazione, Conte ed Ellichlein fanno il male del Paese, questo è chiaramente il loro pensiero in merito alla decisione del governo. Proseguiamo, abbiamo ancora tante prime pagine da vedere insieme, questa ad esempio che vi proponiamo è la prima pagina del quotidiano Il Giornale Calcio Shock, cambia tutto, storica sentenza, antimonopolio, ok alla Superlega, FIFA e UEFA sconfitte e adesso si rischia il caos. La sfida del mondo libero è arginare Xi Jinping, l'attacco della Cina ai valori economici e ai diritti umani dell'Occidente. Maggioranza invece divisa, il MES non passa ma Forza Italia sceglie di astenersi Europa in stallo, scrive il giornale. Il garantista va in bancarotta, nei guai pure Sanzonetti direttore della Testata. E ancora Ferragni perde lo sponsor, si muove anche la finanza, Safi lo vedete si defila. E poi i fatti di Praga, odio il mondo, voglio uccidermi, la strage dello studente killer all'Università di Praga. Il giornale scrive 14 morti, c'è chi dice 15 ma insomma cambia poco perché il bilancio 14 o 15 che sia è davvero pesantissimo. Ci spostiamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, pacto stretta da 12 miliardi l'anno, Conte e il cappio di Meloni. Il governo va a pezzi, bolgia alla Camera sul MES, no di Fratelli d'Italia e Lega Forza Italia invece si ostiene. Parla il capo dei 5 Stelle, Giorgia vuole occultare la sua debacle sul pacco di decrescita, questo dice in questo caso il leader del Movimento 5 Stelle, Conte. Lasciamo il Fatto Quotidiano, questa è la prima pagina del tempo che apre con il MES, è un gioco di parole, vedete MES in scena finita, titola il tempo, la battaglia dei conti. La maggioranza boccia la ratifica del trattato che penalizzava l'Italia, Palazzo Chigi apre una futura riflessione su modifiche più utili. Promessa mantenuta, la sinistra sul voto si spacca, anche il Movimento 5 Stelle dice no. Parte invece la fuga degli sponsor da Chiara Ferragni, Savilo si defila e la finanza adesso sta indagando, insomma nuove grani in vista per Chiara Ferragni. La nazione MES bocciato, tensioni nella maggioranza, la Camera dice no alla ratifica del salva stati modificato, Forza Italia si ostiene, Palazzo Chigi ora riflessione sui cambiamenti più utili. Manovra il governo mette la fiducia sul maxiemendamento, colloquio con Tremonti, patto di stabilità compromesso accettabile. E poi la strage di Praga, 14 morti all'università, lo studente killer ucciso dalla polizia. Il giovane ha iniziato a sparare dal tetto di una palazzina, esclusa la pista terroristica trovati sul web, i deliri del 24enne in mattinata aveva ammazzato anche il padre. La prima pagina di Libero, occhio a questa notizia, Cucù Gesù non c'è più sbianchettato Natale, scrive Libero. A Padova le maestre eliminano i riferimenti religiosi nelle canzoni, a Livorno invece si inventano la festa d'inverno, così cancellano la storia, scrivono i colleghi di Libero. Sentenza ammazza UEFA, come cambierà il calcio, i giudici europei aprono alla Superlega e poi vedete c'è chi dice sì a questo cambio storico, più libertà, più soldi e più spettacolo, dice Daniele Capezzone, ma c'è anche chi è contrario come Francesco Specchia. Senza i campi di provincia finisce il gioco. E poi Chiara Ferragni, eccola di nuovo in prima pagina. Lo sponsor è Sala, salutano la Ferragni, Sala chiaramente il sindaco di Milano, Safilo, dunque lo sponsor straccia il contratto e anche a rischio l'Ambrogino d'oro che è un riconoscimento importante che appunto la città di Milano con il sindaco Sala aveva consegnato proprio a Chiara Ferragni. Il Parlamento intanto si lura il MES, no alla ratifica altro che Meloni, succube di Bruxelles. Parliamo di sport, andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport e chiaramente in premissimo piano c'è la Superlega, c'è questa scelta storica e il possibile cambio storico per il calcio. Superlega, un muro di no, la Corte Europea la promuove, il calcio però la boccia. Il progetto, 64 squadre in tre categorie, con tutte le partite gratis in tv, il governo inglese si schiera contro l'UEFA. Il pallone non si vende, Tebas della Liga non cambierà niente per almeno 100 anni. Insomma sono davvero tanti i club, anche grandi club che sono contrari a questo possibile cambiamento, stravolgimento del calcio, insomma chiamiamolo un po' come vogliamo, ma si tratta comunque di un fatto storico. E storico, vedete, scrive proprio il Corriere dello Sport, sentenza epocale dalla Corte Europea, FIFA e UEFA perdono il monopolio del calcio mondiale, il botto di Natale. Via libera alla Superlega ed è rivoluzione. Ma oggi si gioca in campionato in campo il Milan a Salerno, Ibra spinge il Milan a Salerno, Pioli con un aiuto speciale contro Pippo Inzaghi, ci sarà dunque anche Ibrahimović in questo suo nuovo ruolo da dirigente rosso-nero. E chiudiamo con tutto sport, liberi tutti, questo è il titolo, la Corte di Giustizia europea apre alla Superlega, la sentenza è durissima con la UEFA, monopolio illegale non può sanzionare chi vuole organizzare altri tornei. Ora la Superlega deve convincere i club e con la piattaforma Unifif offre addirittura le partite gratis in streaming. Il mercato tutti pazzi per Zirze del Bologna, il primo della lista Juve, insomma la Juve vuole il giocatore del Bologna, ma occhio anche al Milan, vedete la concorrenza appunto dei rosso-neri, scrive tutto sport a proposito dell'interessamento per il talento Zirze. Ci fermiamo qui, chiudiamo questa rassegna stampa odierna dopo aver fatto e concluso il nostro giro dei quotidiani, partiamo con le edizioni di Spazio e Notizia per aggiornarvi lungo tutto questo venerdì, anche oggi dunque come sempre l'invito non cambia, rimanete con noi, a più tardi. Grazie 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 Grazie